Tra le questioni all'esame della Commissione dello Sviluppo Economico c'è anche la questione delle guide turistiche a Firenze dopo la liberalizzazione. Come stiamo affrontando, come state affrontando le cose? Stiamo lavorando col Partito Democratico e anche con gli altri gruppi consigliari per ottenere un testo uniforme, per dare un segnale politico a questa problematica che era nata con le guide turistiche. La liberalizzazione che era avvenuta, a cosa portava? Portava che le guide turistiche che lavoravano sul mercato territoriale di Firenze, chiaramente facevano un esame di abilitazione territoriale, si vedono comunque invase dalle altre guide che in un periodo transitorio, fin quando non saranno comunque legiferate da un punto di vista regionale i regolamenti nello specifico, la concorrenza dalle guide di tutta Europa. 15 giorni fa è uscito un decreto che identificava i siti speciali, 20 siti speciali su Firenze in cui solo le guide turistiche che erano state abilitate prima possono chiaramente lavorare. Sul resto, ancora è libero mercato, quindi il Partito Democratico, l'amministrazione comunale e anche gli altri gruppi consigliari stanno lavorando per dare un segnale, dare un segnale al Ministro Franceschini che tra l'altro si è sempre manifestato disponibile, così come il Sindaco, perché comunque c'è un rapporto diretto fra i due, dicendo magari non facciamogli fare un esame di abilitazione a chi era, comunque l'aveva già sostenuto, perché chiaramente l'introduzione è il concetto di guida nazionale. Quindi se io introduco il concetto di guida nazionale ma posso insegnare e lavorare solamente a livello territoriale, vediamo che ognuno possa lavorare sul proprio territorio, quindi stiamo lavorando su un test unificato che permetta alle guide non di interrompere il processo di liberalizzazione, perché una direttiva comunitaria è una direttiva comunitaria, ma tutelare quei particolari monumenti in cui se non hai una grandissima preparazione e un patrimonio UNESCO come Firenze ne è l'esempio, non puoi venire a lavorare. Quindi cerchiamo di dare un segnale perché debba e possa essere recepito a livello nazionale, tutti insieme con tutti i gruppi consigliari.